E' notizia di qualche settimana fa della visita da parte della Questura di Salerno nella città di Agropoli per un sopralluogo con il sindaco Coppola a diverse strutture del territorio per l'attivazione di un commissariato di polizia incomodato gratuito per 30 anni con 16 uffici che ospiterebbero 40 unità. La notizia non è passata inosservata, infatti tanti sono i pareri negativi da parte di numerosi cittadini agropolesi, soprattutto di genitori, visto che il presidio scelto da parte della Questura Salernitana pare sia la scuola dell'infanzia Anna Mozzillo in piazza Mediterraneo. Sulla questione oggetto di parere discordanti, ad intervenire è il primo cittadino Adamo Coppola. Ma innanzitutto voglio un attimo ricostruire la vicenda. La Questura mi telefona e mi chiede di venire in città a parlare di una possibile ipotesi di apertura di un commissariato di polizia. Naturalmente la notizia mi ha subito rallegrato perché avere un commissariato, si parla di un commissariato, si parla di 40 uomini che verrebbero ad Agropoli, innesca soltanto meccanismi virtuosi. Quindi alla notizia sono stato felice e nonché fiero di ricevere questa telefonata. Vengono i responsabili della Questura e mi dicono sostanzialmente che si sarebbe la possibilità, ancora non concreta, ma in fase di ipotesi, di, al contrario di quello che sta succedendo altrove, dove si chiudono i commissariati, dove si chiudono i posti di polizia, di aprire ad Agropoli un commissariato, ma ci sono delle condizioni da rispettare. Innanzitutto che l'immobile dove sostanzialmente viene messo il commissariato deve essere di proprietà dell'ente. Il Ministero non è in grado di investire su un finanziamento per una costruzione, né tanto meno è in grado di pagare un fitto di una struttura. Quindi ci deve essere un accordo tra l'ente locale e il Ministero stesso. La richiesta quindi è di avere un immobile in computato gratuito per 30 anni. Abbiamo visitato diverse strutture presenti sul territorio, ma purtroppo nessuna è risultata idonea tranne la scuola Mozzillo. Infatti in queste settimane è al vaglio del tecnico del Ministero la possibilità di realizzare, proprio nella sede della scuola Mozzillo, il commissariato. Abbiamo cominciato a visionare gli immobili sequestrati dalla criminalità, perché mi sembrava una bella idea aprire un commissariato in un immobile sequestrato, ma quella tipologia di immobile purtroppo non corrispondeva alle esigenze del commissariato. Uno perché era fuori mano, uno perché i lavori di trasformazione sarebbero stati troppo onerosi e non c'erano i soldi a sufficienza. L'ho portato a vedere l'ex caserma della Polfer, che poteva essere un'ipotesi, ma è stata ritenuta troppo piccola, perché un commissariato con 40 persone ha necessitato 16 uffici, dove ci sono gli uffici che riguardano le patè, i passaporti, dove uffici che riguardano, oltre voglio dire al normale funzionamento della polizia, uffici del commissariato. Quindi ci sono tante stanze da dover determinare e quindi quello era troppo piccolo. Abbiamo visionato altre scuole, abbiamo visionato il complesso della Croce Rossa, dove attualmente sta la Coppa dei servizi, insomma abbiamo visionato un po' tutti i posti possibili in città. E quello che è stato ritenuto da parte loro naturalmente più funzionale a un ragionamento è proprio la scuola Mozzillo. Però si trattava di un suo guardo, di una prima valutazione e quindi siamo salutati con il vicequestore e ci siamo aggiornati. Dopo una decennia di giorni uno ha stata telefonata dove il vicequestore veniva accompagnato da dei tecnici del Ministero, dove hanno chiesto di visitare solo alcuni dei plessi che noi gli avevamo fatto vedere dieci giorni prima. E sostanzialmente rispetto alle ipotesi che noi avevamo segnalata, quella che il tecnico del Ministero ha ritenuto possibile per una valutazione è la scuola Mozzillo. Risponde a tutti i criteri che loro volevano, c'è un posto centrale con parcheggi, una struttura diciamo seminuova dove naturalmente i lavori non fossero molto onerosi, quindi tutta una serie di caratteristiche che in qualche modo andava bene. Quella del commissariato è un'occasione da non perdere, sottolinea Coppola, e nel caso in cui si dovesse realizzare cercheremmo di trovare una soluzione funzionale ed idonia. Qualora mi dovessero chiamare dalla questura e dire ok, ci sta la volontà di avviare un percorso per utilizzare la scuola Mozzillo. Atteso che io ritengo che per noi, per la città di Agropoli, è un'occasione da non perdere, quella del commissariato, cominciamo a pensare la soluzione alternativa per la Mozzillo, che sia quindi un'area comunque centrale, che sia funzionale a quelle che sono le esigenze della direzione didattica del primo circolo e insieme valuteremo quale che possono essere le alternative altrettanto funzionali e che non danno nessun disagio né ai genitori, tantomeno ai bambini e ancora di meno alle insegnanti. Penso che un modo più corretto di questo non ci sia di agire. È evidente che io non ho attivato ancora richieste ufficiali alla scuola e alla dirigente del primo circolo perché non so neanche io se avrò un ok da parte del Ministero. Quindi avrei avviato delle pratiche inutili. Quando avrò contezza che il percorso comincia a innestarsi in maniera chiara, a quel punto volentieri convocheremo la dirigente Vassallo, convocheremo poi il genitore o chi per esso e come abbiamo sempre fatto, in totale trasparenza e in colloquio con le altre istituzioni del territorio, troveremo la soluzione più idonea in modo tale da far coesistere sia il commissario di polizia e sia una soluzione adatta per la scuola Mozilla, una soluzione alternativa adatta per la scuola Mozilla. Fermo restando però che devono tutti ricordare che noi abbiamo un programma elettorale e nel programma elettorale c'era la necessità di potenziare la sicurezza in questa città, a danno di nessuno naturalmente, ma noi abbiamo preso un impegno con i cittadini e non penso che potremmo permetterci di perdere questa occasione. Tutto potrebbe decidersi nelle prossime ore, ma da Palazzo di Città ancora non trapela nessuna indiscrezione. Intanto il corpo docente del primo circolo didattico di Agropoli, Gino Landolfi, unitamente alla dirigente Anna Vassallo, dicono no alla chiusura del plesso scolastico. Grazie.